Sì, una vittoria sofferta e molto nervosa in tutta la partita perché comunque non siamo partiti molto tranquilli con un po' la paura di dover vincere a tutti i costi perché se no questa è un'occasione che dovremmo sfruttare a tutti i costi e fare tre turni. Loro sono una squadra che è alla nostra portata sicuramente, però come tutte le squadre che stanno appena molli un attimo perdi. L'inervosismo sicuramente se con sé non ci ha aiutato, però io credo che siamo superiori, l'abbiamo di distanza. E cos'è successo in quel secondo set? Tra l'altro la partita procedeva tranquilla, poi alcune decisioni proprio non indivisibili e un po' di questo nervosismo che avevate forse uscito in quell'occasione? Sì, un po' ci è servito secondo me per sbloccarci, in quel momento non sicuramente positivamente, dopo però c'è stato un cambiamento e queste cose capitano nelle partite, Biribanti è una persona molto impulsiva e ogni tanto lo stimolano in questo senso e ne approfittano perché lui ogni tanto ci casca secondo me, però ecco, ne è venuto fuori, ha giocato una buona partita dopo quando è rientrato quindi dispiace e spero che non perde qualche partita, assolutamente.